E' iniziata la distribuzione dei contenitori per il nuovo sistema di raccolta rifiuti all'interno del ring di Pordenone. Dal primo dicembre infatti, nell'area all'interno dell'anello circolatorio, il rifiuto secco residuo verrà raccolto una sola volta a settimana, come avviene nel resto della città. Mentre carta e plastica metalli, che continueranno ad essere raccolti porta a porta, andranno conferiti separatamente e non più insieme. L'assessore comunale all'ambiente è Nicola Conficoni. Riapre, seppure solo per qualche giorno, l'ex biblioteca civica di Piazza della Motta, dove da questa mattina gli operatori GEA stanno consegnando i nuovi bidoni per la raccolta differenziata della carta agli utenti del centro città, siano essi residenti che titolari di studi professionali che gestori di altre attività economiche o commerciali. Come è stato illustrato nel corso delle assemblee pubbliche che si sono svolte nelle scorse settimane, nella zona all'interno del ring, dal primo dicembre, diversamente da quello che accade oggi, la carta e la plastica e i metalli non andranno più conferiti insieme ma separatamente. In questo modo potremo evitare di pagare un impianto per la selezione di questi materiali. Questa manovra, queste nuove modalità di raccolta per la zona più centrale della città consentiranno complessivamente di risparmiare circa 240.000 euro l'anno sul costo di gestione del servizio. L'invito è quello di recarsi all'ex biblioteca di Piazza della Motta per ritirare questi contenitori, lunedì 10 novembre dalle 9 alle 20, martedì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì sempre dalle 14.30 alle 18.30, sabato prossimo dalle 9 alle 17 e lunedì 17 novembre dalle 9 alle 20. Gli utenti che saranno impossibilitati a recarsi all'ex biblioteca per ritirare i contenitori, li riceveranno a domicilio dagli operatori della GEA.